Continua a decheggiare in terra retina, forte e chiara la richiesta di equità tra i risparmiatori. Ovviamente stiamo parlando di quelli delle quattro banche salvate il 22 novembre 2014, tra cui Banca Etruria, e quelli del Monte dei Paschi di Siena. Il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I subordinatisti di Monte dei Paschi vengono tutelati attraverso una riconvenzione del titolo in azioni ordinarie al 100% per i risparmiatori retail del loro valore. Quindi i senesi non hanno perso un euro, gli aretini hanno perso tutto. Ora questo non è accettabile, io l'ho detto anche in toni molto risentiti nei confronti di questa disparità di trattamento alle stesse latitudini per due città molto vicine dal punto di vista culturale e dal punto di vista storico. E quindi ho a stavolta preso la penna e scritto a Mattarella che si facesse garante nei confronti dei cittadini italiani dell'applicazione omogenea delle norme per tutti e quindi per ristabilire quell'equilibrio che oggi oggettivamente non c'è. Intervenuta sulla questione anche la senatrice PD Donella Mattesini. Va precisato che sono delle situazioni diverse perché Banca Etruria era una banca in fallimento e Monte dei Paschi si tratta di ricapitalizzazione. In realtà poi sono cambiati anche gli atteggiamenti dell'Europa da quando è stato fatto il primo decreto su Banca Etruria ad oggi. Ci ho detto, i cittadini sono comunque tutti uguali. Quindi io credo che adesso vedremo il testo del decreto ma se il decreto già di per sé non permette un riconoscimento uguale di fronte ai cittadini, io penso che dovremo provare a presentare emendamenti e ragionare con il governo affinché tutti e come dire coloro che sono clienti di Banca Etruria piuttosto che di Monte dei Paschi abbiano lo stesso trattamento. Prima viene comunque la giustizia. È necessario che i principi che valsero per salvare i risparmi degli altri valgano anche quando si tratta dei risparmi degli aretini. Questo invece è l'intervento del Vescovo di Arezzo Riccardo Fontana nell'Omelia alla Messa Solene di Natale in Cattedrale, in riferimento al salvataggio dei risparmiatori del Monte dei Paschi. Il Vescovo Fontana ha poi aggiunto Le Forme non spetta la Chiesa a trovarle ma non taceremo fino a che non sia rispettato il diritto di questa città. Sulla questione è intervenuta anche il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi tramite un post su Facebook. Non ci possono essere due pesi e due misure per gli obbligazionisti di Banca Etruria e per quelli del Monte dei Paschi. La tutela del risparmio deve valere per tutti. Cosa diciamo a quei cittadini che nelle obbligazioni subordinate hanno investito gran parte dei loro risparmi? Che lo Stato non poteva intervenire, eppure lo ha fatto, conclude Rossi, seppur con grande ritardo, nel caso del Monte dei Paschi. Il parlamentare aretino Marco Donati invece si era sopromotore di un incontro sul decreto banca al quale parteciperà il Vice Ministro dell'Economia Enrico Morando, che si terrà nei primi giorni di gennaio a Monte Citorio. L'incontro ha come scopo la ricerca di soluzioni destinata ad estendere all'interno del nuovo decreto rivolto al sistema bancario le tutele per i risparmiatori delle quattro banche salvate. Grazie a tutti.